Il consiglio direttivo della LND si è riunito a Roma. La novità che tutti aspettavano, quella in merito al nuovo protocollo sanitario per lo svolgimento dell'attività di preparazione e per quella agonistica, è arrivata a metà, nel senso che la LND fa sapere di aver preparato una bozza da sottoporre alla commissione medica della FIGC. Intanto i gironi dilettantistici del Veneto verranno pubblicati entro fine agosto, mentre i calendari la prima settimana di settembre. Grazie